9 settembre 2024 questa è la data di riattivazione del servizio dell'asilo nido nei locali originali locali che sono stati ristrutturati proprio in questi giorni si stanno ultimando i lavori legati alle finiture durante le prossime settimane quindi si sistemerà il taglio dell'erba all'area esterna e si procederà entro appunto la data del 9 di settembre al trasloco di tutto il materiale la sistemazione appunto di tutto l'arredo all'interno dei locali oltre 500 mila euro investiti su questa struttura per renderla ancora più efficiente per ampliare i posti da 25 a 30 e in vista anche del nuovo appalto che partirà per l'erogazione del servizio ragionevolmente a inizio 2025 con una nuova cooperativa in funzione appunto di chi vincerà questo nuovo bando obiettivo dell'amministrazione quindi è continuare a rimanere al fianco delle famiglie investire sui su di loro sui sui nuovi nati e lo faremo in tutte le forme anche se si dovesse rendere necessario con il nuovo appalto integrare maggiormente la quota a carico del comune per mantenere il più stabili possibili le rette che così come sono da qualche anno grazie a tutti grazie a tutti